Ora si attendono i dati definitivi sul territorio da parte dell'ARPA. L'intervista all'assessore Roberto Russo dopo la chiusura del COC d'emergenza. Assessore Russo, la situazione è ormai completamente risolta nella parte dell'incendio. Continuano ad essere piccolissimi i focolai che vengono attaccati direttamente dal squadro dei vigili del fuoco con l'acqua, ma stiamo parlando di piccoli cumuli di carta, cartone, sfalcio e legno. Poi dall'altra parte i dati che ci ha dato ARPA, ieri nella mattinata ci hanno dato assolutamente la conferma che la qualità dell'aria ora è nella regolarità più assoluta e quindi non abbiamo problemi. Aspettiamo ancora con una certa attenzione, una certa trepidazione i dati sui rilievi fatti al suolo che però proprio perché sono delle misurazioni abbastanza complesse non potremmo avere che o nella tarda giornata di oggi o se non addirittura domani. Senta, dopo tre giorni dal rogo, lei come ha sentito le persone? Ci ha parlato? Sono più preoccupata, meno preoccupate? Le fanno domande? No, diciamo che la preoccupazione è stata molto forte nelle prime ore perché è chiaro che questo fumo di colore così nero, proprio intenso e in alcune zone il percepire proprio l'acidità del fumo ha creato della preoccupazione più che giustificata in quel momento. Poi per nostra fortuna sia le condizioni di vento sia le condizioni proprio generali dell'incendio ci hanno portati verso questa soluzione positiva. Non abbiamo avuto nessun tipo di intervento al pronto soccorso, nessuno ha fatto ricorso a cure per interossicazioni perché è chiaro che soltanto chi... Neanche immaginari. No, 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 per fortuna nostra devo dire che è chiaro che l'essere umano, proprio l'istinto di proteggersi fa sì che se tu percepisci nell'aria un odore acre, qualcosa che non è nella normalità, ti porta ad allontanarti. Per nostra fortuna appunto chi si è trovato magari nella zona di Via per Camporreale, quella parte dove il fumo si è spostato ma sempre in alta quota, vedendo avvicinarsi questa nuvola si è poi spostato. E questo ci ha permesso proprio di non avere casi né di intossicazione e neanche casi acuti di irritazione ad occhio o alle vie respiratorie. Senza, un'ultima cosa, il COC attualmente è stato chiuso, è stato smesso? Sì, sì, il COC è stato chiuso ieri più o meno alle 15, verbalizzando tutti i pareri degli esperti che erano seduti al tavolo, quindi sia dell'ASP che del servizio veterinario che dell'ARPA e dei vigili del fuoco, sono stati acquisiti proprio questi dati strumentali che ci hanno rassicurato sulla qualità dell'aria. Grazie.